Sono rimasti loro due a contendersi Milano ed era un pronostico facile. A differenza di quanto accaduto altrove, il primo turno delle amministrative ha visto riemergere a Milano i due schieramenti politici tradizionali. Un centro-sinistra e un centro-destra anomali, però, rispetto alle leadership nazionali. Giuseppe Sala o Stefano Parisi, sulla poltrona di Giuliano Pisapia, comunque vada, non siederà un politico, ma un manager prestato alla politica. Forse per un omaggio alla vocazione imprenditoriale ed internazionale di Milano. Certo per l'esigenza di trovare nuovi e credibili interpreti della buona tradizione amministrativa della città. Una scelta premiata dall'80% dei votanti, con il voto di protesta ridotto al minimo e pentastellati e leghisti senza squilli. Quel che meno era prevedibile, vista la partenza in grande vantaggio dell'ex commissario unico di Expo, era che a dividere i due principali contendenti fossero alla fine pochi voti e che tanto bassa sia stata al primo turno la percentuale dei votanti. Chi vincerà domenica? Un peso l'avranno certamente i voti dei grillini, che dovrebbero scegliere Parisi, e quelli di radicali e minoranza PD annunciati a favore di Sala. Ma voteranno ancora? E lo faranno per gli schieramenti tradizionali, coloro che al primo turno hanno optato per il voto di protesta o per le formazioni minori? A determinare il vincitore potrebbero essere invece i voti di chi al primo turno è rimasto a casa. E per questo, pur con il free play tenuto per l'intera campagna, spendono le ultime energie i due candidati, per conquistare quel pugno di voti che farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta.